Gesù è stato 39 anni, è stato vero agitato, mi svegliamo già nel rossa, nei brutti pensieri e quando ho avuto Gesù nel freddo, mi ha cambiato tutto, la mattina mi svegliamo e davo gloria a Dio dicevo Gesù aiutami tu ad ascoltare questa giornata, dammi tu la porta, strategimi e Gesù mi ha ascoltato, perché la mia vita è cambiata, ho visto la mano di Dio aiutami a darmi pace, a darmi domani, mi ha guarito dalle malattie, ho avuto un tumore, il Signore mi ha colto il tumore al seno, senza che io mi operassi, io mi dovevo operare, era da togliere, ma Dio è un miracolo prodigioso, io quando ho parlato dal dottore mi hanno detto più niente, io ho potuto testimoniare che Gesù è vivo e che fai il miracolo, è un amico fedele, ho avuto tanti amici, amiche, parenti che mi hanno abbandonata per la vita, ma Gesù non mi ha mai lasciato, sono otto anni che lo cerco tutti i giorni ed è sempre fedele nel darmi l'amore, la pace, la gioia, mi ascolta, mi regala tante cose belle, Gesù è un amico fedele, non ha mai diventato Gesù del mondo.